Angelo Greguzzi può tornare alla salernità. Ci sono stati contatti concreti negli ultimissimi minuti con l'attuale collaboratore di Mancini in nazionale che ha allenato il club campano nel dal 2004 al 2005 e nel 2014. Greguzzi avanza in una lista che comprende altri nomi, per esempio Calori, ma con la necessità di trovare presto una soluzione. La decisione verrà presa entro domani, ma già serata sono attesi aggiornamenti.